senti bene? Benissimo. Ah bene, mi fa piacere. Allora, buonasera a tutti, sono con Marco Mellace, ancora so che siamo in pochi, intanto chiedo scusa a tutti quanti perché avevo programmato in realtà la live per ieri sera, ma doveva essere per oggi. Quindi so che in molti vi siete venuti sul canale ieri sera, però non avete trovato nulla e invece era per oggi. Do il benvenuto a Marco Mellace che ha un bellissimo canale YouTube che si chiama Flippetrof. Buonasera, è un piacere essere con voi questa sera. Marco non solo è un bravo, un grande divulgatore, ha un suo canale dove divulga vicende storiche eccetera, ma ha anche la grande qualità di condividere tutto quanto, e questo secondo me è bellissimo nel mondo del web dove davvero c'è bisogno di materiale gratuito per tutti, nel senso che è chiaro che spiegare il partenone facendolo vedere com'era è ben diverso da far vedere le foto odierne e Marco ricostruisce un po' la storia per quella, per l'architettura storica diciamo, mettiamola così, l'architettura storica per quella che è. Io credo che possa definirla in questo modo qua. Magari Marco ci spieghi un po' come funziona il tuo lavoro diciamo di ricostruzione, come fai a ricostruire i vari ambienti. Adesso io penso già utilizzato diversi tuoi filmati su dei castelli crociati, forse ancora non sul partenone, però è diciamo quello che mi sta venendo più utile per l'esame di storia greca che ancora devo dare a breve. Poi ho ricostruito Roma, ho ricostruito tantissimi posti ecco. Ti chiedo un po' come fai, come funziona il tuo processo creativo. Allora a livello proprio di preparazione dei lavori io cerco di fare, di non lasciare mai nulla al caso, nel senso che ti faccio un esempio. Attualmente sto ricostruendo Veglio Etrusca e ovviamente tutto il processo di lavorazione che c'è dietro è abbastanza complesso. Si fa innanzitutto una ricerca filologica, quindi si cerca di arrivare alle fonti, a tutte le fonti disponibili, le fonti degli storici, quindi la preparazione e il primo tassello è certamente riferimento degli storici, perché ritengo le fonti storiche per cercare di creare un qualcosa di attendibile. Poi ovviamente si fa una sorta di collegamento con le fonti moderne, perché ci deve essere questa sorta di continuità tra le fonti storiche e le fonti moderne, quindi una ricerca delle fonti moderne, come ad esempio, non so, Colonna per me è stato un riferimento fondamentale, nello specifico su Veglio. Poi la fase, lo step successivo quando c'è la possibilità di farlo è il sopralluogo, quindi recarsi nel luogo proprio dove c'era la città, il luogo, il sito storico, il sito archeologico, fare dei sopralluoghi e io ho fatto il sopralluogo lo scorso gennaio con l'archeologo Michele Damiani e ho voluto documentare proprio questo sopralluogo, infatti sono usciti una serie di video di contenuti multimediali all'interno del mio canale nel quale ho documentato il sopralluogo che altro non è che un tassello della ricerca che mi è servito proprio in fase di ricerca per la ricostruzione di Veglio e poi piano piano gradualmente riproduco e quindi faccio uscire i miei video le ricostruzioni 3D, ad esempio per quanto riguarda Veglio, il santuario del Portunaccio è stata la prima cosa che è uscita proprio sul canale, ecco qua infatti si vedono anche video che ho realizzato con Michele Damiani che parla di Veglio, del santuario del Portunaccio e questa è tutta una serie di, una carrellata di video, questo è il santuario del Portunaccio ricostruito in 3D da me sulla base, perché poi bisogna seguire un'ipotesi, delle descrizioni e delle ricostruzioni di colonna che è considerato uno dei massimi studiosi proprio della città di Veglio. Col passare del tempo ho cercato di non lasciare nulla al caso anche per quanto riguarda i dettagli, questo è proprio il santuario del Portunaccio, possiamo vedere le statue che decoravano proprio il tetto del santuario, nello specifico al museo di Villa Giulia sono conservati l'Ermes, la tona con Apollo bambino e Apollo, quindi tutte queste statue vanno proprio, io le ho ricostruite come dovevano essere proprio per cercare di dare una verosimiglianza vicina a quello che doveva essere il santuario del Portunaccio e di solito il mio manuale Cencelli è sempre quello, nel senso che cerco di ricostruire i miei lavori, però li considero un cantiere aperto, nel senso che sono sempre migliorabili, non è mai definitivo il mio lavoro, cerco sempre di aggiungere qualcosa di nuovo appena magari un archeologo mi dice guarda Marco qui è uscita questa cosa, quindi quella metopa non la fare così, cambiala e magari c'è qualcosa di diverso, quindi è un'evoluzione continua e gli stessi archeologi, molti archeologi che molti di loro magari si avvicinano un po' con pregiudizio alle ricostruzioni, però vedendo che io ho questo approccio hanno apprezzato tantissimo perché io non considero mai definitivo un lavoro, per me è sempre un cantiere aperto, quindi se un giorno si dovesse scoprire che il santuario del Portunaccio aveva quella colorazione specifica sulle colonne, io non ho nessun problema ovviamente a cambiare la colorazione delle colonne, ma ben venga, sarei felice, sono io il primo ad essere felice di fare una variazione per cercare di migliorare un lavoro, anche perché poi questi lavori vengono utilizzati anche da molte scuole, da molte università come strumento di supporto ed è importante anche la condivisione gratuita di questi strumenti, perché molti ragazzi riescono a farsi un'idea di quello che ad esempio doveva essere un sito archeologico, quindi io certamente cerco di farlo con passione proprio per appassionare tanti ragazzi che magari hanno difficoltà anche a farsi un'idea di un sito archeologico e vorrebbero saperne di più. Sì, te lo dico da studente, secondo me è importante, nel senso che certo che vederlo ricostruito in 3D, il tempio è tutt'altro, che capirlo con le descrizioni che a mio parere è molto difficile. Poi Matteo, posso dire una cosa? Sergio Leone diceva sempre, dicono, allora io dice per carità so fare il regista, però mi servo sempre dei migliori, della migliore fotografia, del migliore montatore, del migliore sceneggiatore e così via. Cioè cercava di raggruppare i migliori per creare poi un film degno di nota, e poi mi ha creati di capolavori. Io cerco di cercare proprio le persone che possono veramente aiutarmi, ad esempio per quanto riguarda, come dicevo, il Santuario del Portonaccio, mi ha aiutato Michele Damiani che è un archeologo stimato, un grande esperto proprio del territorio dell'agroveientano, quindi per quanto riguarda invece, ecco, Lara della Regina, mi ha supportato Francesco Galluccio, che saluto, grande archeologo e artista rievocatore storico, quindi quando cerco di fare queste cose cerco anche di affidarmi a quelle persone che ne sanno più di me, con molta umiltà lo dico perché magari io stesso non posso sapere tutto, quindi devo chiedere alle persone e avere il massimo rispetto per le persone che ne hanno fatto una vita, cioè ne hanno fatto una vita della loro passione. Adesso mi sembrerebbe impensabile che tu conosca qualsiasi santuario, qualsiasi tempio, qualsiasi dettaglio sull'archeologia e sull'architettura antica. Adesso forse perché ci segue è bene specificarlo. Ci sono gli specialisti e ci sono persone che dedicano la vita a studiare, non dico quasi tempio per tempio, ma insomma già dividere, che ne so, Grecia classica da Grecia ellenistica eccetera, cioè si fa un taglione che è come dividere veramente pani e pesci, capito? Cioè c'è bisogno di specializzazione, nel senso che ogni epoca, ogni corrente artistica ha una sua, come dire, ha le sue specificità. Ecco, io adesso sto cercando di impararne tante insieme e faccio fatica, ecco. Quindi non è facile perché tanto veramente ogni epoca è proprio diversa l'una dall'altra. Adesso poi in realtà, per dire, noi ci immaginiamo, hai presente la scuola che si studia la Grecia come precedente ai Romani, poi in realtà già nel Settecento con la fondazione di Roma, nell'ottavo secolo c'erano già i tempi romani, ecco. Quindi non è proprio così. Però, insomma, veramente studiare tutto è difficile, penso. Sì, e poi, Matteo, la cosa importante, ecco, questa cosa proprio che mi dici giustamente, tu dici nell'ottavo secolo, nel settimo secolo c'erano già i tempi romani. Per quanto riguarda proprio la scuola, nello specifico, credo che sia importante, poi voi, dare veramente un'idea a questi ragazzi, anche in maniera stilizzata, però l'importante è che gli venga dato un input veramente veritiero, perché loro hanno degli stereotipi nella scuola che non vengono scardinati. Ad esempio, quando si parla di storia romana, dal 753 a.C. al 476, loro hanno come stereotipo il Tempio Corinzio. Cioè, questa cosa è che si fa, ovviamente. Invece bisogna dir loro, ragazzi, guardate, che nel 600 a.C. era più facile trovare un Tempio a Roma che somigliasse a un Tempio etrusco piuttosto che a un Tempio Corinzio e imperiale, e loro rimangono affascinati da queste cose. Quindi questo tipo di lavori aiuta anche loro a dargli un'idea effettiva di quello che era. Cioè, il soldato romano non era il soldato con la scopa in testa per tutti e 1100 gli anni di vita dell'esercito romano. Quindi questi lavori, anche quando io eseguo questi disegni stilizzati, cercano anche di non lasciare nulla al caso per quanto riguarda questi piccoli dettagli. Quindi, in un certo senso, il mio obiettivo è quello di avvicinarli alla storia. Poi ci sono canali stupendi, come ad esempio quello di Matteo, di Vanilla Magazine, che è l'occasione per approfondire, per appassionarsi ancora di più. Quindi io sono una sorta, credo, di elemento complementare, che fa da aggancio con queste realtà, che sono quelle, ad esempio, di Matteo e altri divulgatori eccellenti, che approfondiscono e quindi io magari do il là ad interessarsi su qualcosa. E qui vediamo, ad esempio, c'è un porto romano, una ricostruzione ipotetica di Alzium con la nave di Enea. E quindi, certamente, questo è un trampolino che può aiutare loro anche a scoprire altre realtà, nelle quali è possibile poi approfondire la storia in maniera più dettagliata e approfondita come fai tu egregiamente. Quindi, certamente... È proprio un modo diverso, nel senso che io poi non è che... Cioè, tu approfondisci la parte visuale, io dopo parlo delle storie, ecco, che posso conoscere. Quindi, se parlassimo di Enea, della Fondazione di Roma, eccetera, sicuramente avere un documentario sulla nave di Enea sarebbe fondamentale per capire poi come questo la Troia arrivi a Roma, ecco. Sì. Certo, che poi qua sulla nave di Enea la persona che mi ha supportato nelle ricerche, ecco, mi ha aiutato, mi ha fatto capire una serie di aneddoti. Questa è impropriamente chiamata la nave di Enea, perché in realtà questa è una costruzione che molto probabilmente Augusto fece fare per ragioni propagandistiche, tutta quella serie di cose che fece per ragioni propagandistiche. Si disse che questa era la nave di Enea, il fondatore, quindi, di Roma, però in realtà, probabilmente, ecco, la nave che vide Procopio è una nave risalente al primo secolo, probabilmente. quindi questa poi è la cosa che abbiamo messo in evidenza, ecco, nel contenuto. Però è affascinante pensare che Procopio, molti secoli dopo, poteva ancora vedere questa nave che in ogni caso era sempre una nave di epoca imperiale, quindi certamente è affascinante pensare che lui comunque ci descriva una nave di epoca imperiale che nella peggiore delle ipotesi era stata costruita da Augusto, comunque, di epoca augustea, anche perché la nave di Enea, questa è una nave tipicamente romana, quindi ricostruita sullo stile delle navi romane, sarebbe somigliata molto di più a una nave micenea, ad esempio una nave di Enea, perché l'epoca è diversa e quindi sarebbe stata molto diversa. e invece, ovviamente, abbiamo ricostruito questa nave seguendo le fonti, anche in questo caso, quindi ho seguito le fonti di studiosi illustri dell'epoca moderna, come Cascarino, Giuseppe Cascarino, perché mi ha supportato tanto, ecco, grazie alle sue pubblicazioni, per quanto riguarda la realizzazione delle fortificazioni romane, del Vallo di Adriano, del Vallo Antonino, e anche proprio della nave di Enea, ho potuto dare, ecco, un'immagine in 3D, quindi si parte sempre da illustrazioni 2D e si cerca di dare poi quelle sembianze in 3D, facendo anche molta attenzione ai colori, Matteo, la colorazione è una cosa fondamentale, anche perché i ragazzi hanno lo stereotipo indotto dall'influenza neoclassica, loro sono convinti, molti di loro, che questi templi, ecco, nel Partenone e nello specifico, fossero bianchi. Dice il professore, ma dove mai ha messo il colore? E perché erano colorati? Però il neoclassicismo... Quindi qua c'è l'Atena Promachos, che è bellissima, è stato di Fidia, è stata colossale, è stata colossale, poi dopo dentro, non so se dentro arrivi a far vedere l'Atena Parthenos, immagino, sì? L'Atena Parthenos. Allora, io considero una cosa, il Partenone l'ho ricostruito quattro volte, come ho specificato sul mio libro, Fidio Pro... E hai fatto bene, guarda, e hai fatto bene, perché è un po' dove comincia, secondo me, guarda, no, non dove comincia, ma è proprio dove si raggiunge il massimo, il massimo grado del, non so come dirti, della bellezza del mondo classico. ecco. Peraltro, andando sull'Acropoli, ancora oggi, garantisco, almeno io che sono andato un po' di volte, posso garantire che non si è persa quell'atmosfera di bellezza, nonostante sia tutto distrutto, sostanzialmente, però veramente, la bellezza di star lì ad Atene è veramente unica, non ho provato una sensazione simile da nessun'altra parte. Poi adesso è tutto spoglio, come diciamo, quindi tutto neoclassico, no, come piaceva a Michael Mann, se non ricordo male, però una volta era diverso. Ti dico, io rimango sempre impressionato, ecco, tu sei stato, sei stato ad Atene, immagino, hai visto Acropoli, ricostruirla, ricostruirla dopo averla vista, com'è stato? È stata un'emozione incredibile, perché come hai detto tu, giustamente, una parte di te proprio entra, cioè, una parte di questo luogo, una volta che lo vedi, entra dentro di te, cioè, se sei sensibile poi alla cultura classica, è una cosa inevitabile. Ricostruirla è stata un'emozione infinita, ogni volta che l'ho ricostruita, cioè, dalla ricostruzione più stilizzata, cioè, quella più, magari indicata, per ragazzi un po' più piccoli, ha la ricostruzione più dettagliata, ho provato sempre la stessa sensazione, la sensazione di tornare indietro nel tempo, e questo mi ha dato, cioè, quando sono salito, quando ho attraversato i propilei, per la prima volta, ho avuto la sensazione, veramente, di fare un viaggio nel tempo, ma non solo, però, nell'acropoli di Atene, la stessa sensazione l'ho provata ad Olimpia, in tutti i luoghi dell'antica Grecia, ho sempre la sensazione che il tempo si fermi, si sia fermato, e qui, è vero, qui, ecco, l'interno, l'interno ovviamente, l'ho dovuto ipotizzare molto, perché si sa molto poco dell'interno, però, questa è l'ultima ricostruzione, quella più dettagliata, che ha avuto diversi consensi in tutto il mondo, tant'è vero che adesso, ci sarà un documentario, girato da Sabine Carpon, una regista tedesca, proprio sull'acropoli di Partenone, e verranno utilizzate le immagini, del mio Partenone, però mi ha aiutato molto sulla ricerca, Andrea Sarcadios, che è un filologo greco, è un mio collega, molto bravo, molto preparato, che mi ha dato tanti, tanti suggerimenti, anche sulle colorazioni, e sul possibile aspetto dell'interno, e molte cose, le ho potute ricostruire, grazie alla sua preziosa consulenza, come ti dicevo prima, affidarsi a persone, che certamente ti possono dare, un aiuto, per quanto riguarda le ricerche, e questa è Ercolano, la ricostruzione di Ercolano, nello specifico, questo è il termopolio, di Ercolano, che ho ricostruito tra il 2020 e il 2021, e sono stato molto felice, di ricostruire Ercolano, perché l'ho vista Ercolano, come l'acropoli, e anche ad Ercolano, si ha la sensazione, veramente, di tornare indietro nel tempo, perché c'è tutto, ancora praticamente in piedi, e quindi, credo che sia uno dei posti, più importanti, a livello anche di informazioni, per quanto riguarda i costruttori 3D, questo è il termopolio, quindi, che era una sorta di bar, ristorante, dell'epoca, era un luogo, di ritrovo, ecco, per i romani, Ercolano, e Ercolano, certamente, è stata una ricostruzione molto impegnativa, soprattutto per quanto riguarda gli interni, e poi Matteo, la cosa importante da sottolineare, è che più dettagli, ovviamente, l'archeologia ci restituisce, più difficile è la ricostruzione, perché dobbiamo attenerci, ovviamente, ai ritrovamenti, a quello che ci viene detto, e quindi non possiamo personalizzare troppo, un conto è ricostruire, una città della Magna Grecia, che ci ha restituito poco, magari, a livello di ritrovamenti, ma in questo caso, ricostruire Ercolano, devi cercare di fare, veramente, le cose al millimetro, perché... Ti chiedo, infatti, c'è una domanda su questo, di Berenici Marino, che ci dice, dati i colori, che i colori sono sbiaditi nel tempo, sa quali ingredienti o tecniche, avevano usato per i colori? Beh, credo che non dovevano essere troppo diversi, dagli elementi che utilizzavano i pittori medievali, rinascimentali, però erano colori molto terrestri, erano colori, anche vivaci, accesi, cioè non c'era una colorazione sbiadita, è chiaro che poi, noi quel poco di colore che ci arriva, ci è arrivato a noi, ci arriva sbiadito, ci arriva, soprattutto per quanto riguarda i ritrovamenti dell'antica Grecia, non ci arriva quel colore vivace che doveva essere, però c'erano diverse tecniche, sicuramente, nello specifico, molto variava, anche in base alla commissione, anche in base alle maestranze, non credo che ci fosse, ecco, un ingrediente, una selezione di ingredienti specifica, credo che molto doveva adattarsi anche al tipo di statua da colorare, se si doveva colorare una scena sgargiante, una scena più vivace, si utilizzavano certamente, ecco, dei materiali che ci permettevano di ottenere delle miscele di colorazioni più vivace. Qui, per esempio, è il Tempio di Eralacina, Eralacina a Capocolonna, e in questo caso, purtroppo, non c'è rimasto tantissimo a livello visivo, anche se c'è tantissimo a Capocolonna, però, il problema della ricostruzione 3D è anche la stratificazione storica, perché è ovviamente un sito archeologico come Sibari, come Capocolonna, sono tutti siti archeologici che hanno delle stratificazioni. Ad esempio, ricostruire Sibari è stato difficilissimo, perché la Sibari arcaica era enorme e sta sotto la Sibari classica, che sarebbe Turi, e sopra a Turi c'è la città romana, Coppia, quindi è tutta una serie di stratificazioni e la Sibari arcaica ci restituisce poco, pochissimo, nulla, non sappiamo nulla, perché sta sotto, è tutta da scoprire. Capocolonna, stessa cosa, perché a Capocolonna abbiamo prima l'insediamento arcaico del santuario, che era poi un luogo panellenico, sacro a tutta la Magna Grecia, poi abbiamo ovviamente il periodo ellenistico, poi il periodo romano. Qui c'è Taranto, la ricostruzione 3D di Taranto, questo è lo Zeus, che si doveva trovare nel Lago Rà di Taranto, che è considerata la seconda statua più grande della civiltà greca, dopo il Colosso di Rodi. Era una statua colossale, Strabone dice proprio che era una statua colossale che si poteva vedere anche da molto lontano, dal Mar Grande di Taranto, era una statua settante, con questi fulmini, stava sempre lì per scagliarti un fulmine, questa statua, ed era un capolavoro assoluto. Taranto certamente, per un certo periodo, fu la città più bella e potente, non solo della Magna Grecia, ma anche dell'intera civiltà greca. Taranto è fondata dagli Spartani, fra l'altro, questo lo ricordo. L'unica colonia Magna Grecia fondata proprio dagli Spartani. Sai che in realtà sto facendo storia greca e il mio professore mi ha detto, guarda, sì, potrebbe, cioè sicura, probabilmente sì, però c'è qualche dubbio, ecco, cioè, lui almeno mi ha detto che esiste un qualche dubbio sul fatto che sia stata proprio fondata dagli Spartani o meno, insomma. Però questi, diciamo che tradizionalmente la prendiamo tutti quanti come l'unica città fondata dagli Spartani. Sì, 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 l'unica città fondata dagli Spartani. Beh, sai Matteo, poi ci sono tante correnti di pensiero, ad esempio su Turi, che è la Sibari classica, Sibari che è stata rifondata proprio in epoca classica, ci sono delle correnti che sostengono il fatto che questa città era una città panellenica, quindi fondata da tante città greche, che hanno voluto rifondare proprio sulle ceneri di Sibari una città molto più piccola, però ci sono anche altre correnti che attribuiscono la fondazione proprio della città Turi soltanto ad Atene e alcuni vantano il fatto che questa sia l'unica colonia fondata dagli Atenesi in Magna Grecia. Quindi ci sono sempre delle correnti di pensiero, l'ecista è quello piuttosto che l'altro e quindi per esempio a Poseidonia, a Pestum c'è la tomba dell'ecista ma è stata trovata vuota, ci sono stati, hanno trovato i reperti però non sono stati trovati i resti dell'ecista di Poseidonia, quindi certamente ecco tante cose sono sempre tutte da... Sì sì, con la storia sono sempre da appurare. Mi chiede Clara quante ore ci metti a fare uno di questi rendering? Io ti aggiungo io quanti giorni, ecco che mi sembra più indicato capire quanti giorni tu ci metti a fare questi questi rendering. Allora, i rendering si fanno anche in un paio d'ore il problema vero è fare la ricostruzione 3D soprattutto se non mi sono mai avventurato in una civiltà. Ti faccio un esempio se dovessi ricostruire oggi una città precolombiana ovviamente ci metterei molto di più perché non ho ricostruito niente in 3D di precolombiano mentre per quanto riguarda ad esempio Kuma che è una delle città che vorrei ricostruire ci dovrei mettere relativamente poco una settimana due settimane perché molte case le ho ricostruite già per quanto riguarda l'anno in Grecia quindi riutilizzo sempre quelle case anche se poi e Andreas lo sa perché mi l'ha consigliato sempre lui lui mi dice sempre per ogni nuova ricostruzione io ascolto sempre i consigli ricostruisci sempre una casa nuova perché è un elemento importante e distintivo ti distingue quindi cerca di fare una casa nuova che salta sicuramente all'occhio quindi anche se ho già il materiale pronto magari faccio sempre quella casa in più quella struttura in più che l'ho creata appositamente per quella per quella ricostruzione adesso ti faccio una domanda invece un po' più relativa al campo di business sai che io come lavoro lavoro insomma che Vanilla Magazine è il mio lavoro principale la divulgazione invece tu sei professore secondo te questo tipo di attività dovrebbe entrare a far parte delle istituzioni cioè le istituzioni dovrebbero sostenerlo ed è chiaro che ci diciamo di sì però in che modo secondo te potrebbero sostenerlo o se hai già dei contatti sapendo che interessa le istituzioni eccetera fammi sapere un po' cosa ne pensi del rapporto delle istituzioni con questo tipo di lavori io potrei sembrare di parte però assolutamente sì perché questo tipo di lavori può anche aiutare a rilanciare o a far scoprire alle persone dei siti archeologici che sono praticamente sconosciuti ti faccio un esempio in Calabria a Ciro Marina c'è un tempio octastilo quindi a otto colonne l'equivalente del partenone che ad oggi è l'unico esempio di octastilo nella madrepatria ed è un esempio di octastilo quindi un tempio importantissimo delle fattezze del partenone ma che non conosce quasi nessuno quindi in questo caso le istituzioni certamente se riuscissero ad andare a braccetto con la tecnologia avrebbero una grande mano anche alla valorizzazione del territorio perché il tempio di Apollo Leo che è uno dei tempi che ricostruirò certamente quest'anno è un tempio che non conosce nessuno ma era un tempio strepitoso era un tempio incredibile era un tempio che i greci sentivano molto aveva otto colonne sulle facciate corte quindi già questo vi fa capire che era un tempio fuori dal comune perché non è il classico 8 sulle corte e 17 sulle lunghe giusto? ricordo male sì sì si fa sempre la proporzione 8 e 17 ottastilo è 8 con la corte e 17 le lunghe 8 per 2 più 1 quindi 6 per 2 più 1 13 sullo schema classico occidentale che è lo schema tipico poi dell'arte magno greca e quindi nella Magna Grecia ecco ci sono tanti di questi esempi cioè noi ad Atene e nella madre patria come tempio 8 colonne facciata curta conosciamo quello ma nella Magna Grecia ci sono tanti c'era anche ad esempio fuori da Posidonia il tempio di Erargiva che era anche questo un tempio a 8 colonne a un santuario periferico però era importantissimo ma lo stesso tempio di Zeus Olimpio ad Agrigento che aveva 7 semicolonne ed è considerato il più grande tempio dello stile dorico il più grande tempio dorico proprio dell'arte greca quindi effettivamente io sono d'accordo sul fatto che le istituzioni dovrebbero servirsi di questi materiali perché ci sarebbe certamente un effetto positivo in generale sia sulla cultura ma anche a livello economico perché certamente questi contenuti rendono anche più accattivante la scoperta di un sito archeologico però senza dimenticare l'importanza del ritrovamento e di quello che ci è giunto ai giorni nostri quindi devono essere due cose certamente che vadano a braccetto una non deve trascurare l'altra sì in realtà secondo me dovrebbero proprio iniziare a ragionare di finanziare un po' la divulgazione la creazione di contenuti perché poi in realtà guarda è una criticità di questi giorni ne parlavamo prima non in live ovvero il fatto che l'editoria online si stia mantenendo un po' con i fondi che le grandi multinazionali Google Facebook eccetera ci danno però non ci sia cioè non ci sia continuità quindi per esempio faccio un esempio ieri il video che ho fatto sulla tomba della fustigazione è stato fortemente limitato perché chiaramente parla di un argomento che non piace sostanzialmente a YouTube e invece io credo che le istituzioni dovrebbero cominciare a dialogare con questo mondo che ma anche perché Matteo allora ma anche perché poi questo tipo di contenuti proprio quello sulla tomba della fustigazione che hai fatto tu genera certamente un fuoco creativo collaborativo perché io appena ho visto il tuo filmato ho detto ma io l'ho ricostruita Tarquinia ma come mi è sfuggita la tomba della fustigazione cioè così bella così piena di particolari poi tu l'hai descritta in modo veramente incommiabile e sinceramente ecco si crea una sinergia si crea un qualcosa un effetto domino benefico perché poi tu hai lanciato il sasso su un qualcosa ecco che non è proprio conosciuto al massimo per quanto riguarda Tarquinia che siamo più abituati ad accostare alla tomba dei leopardi quindi ha un altro ha un altro altre tombe un po' più famose di default diciamo però ecco questo tipo di contenuti crea certamente un effetto domino positivo perché io stesso mi sono detto ecco vedi però la dovevo ricostruire quindi contributo di Matteo capacità divulgativa di raccontarti un qualcosa contributo grafico di Marco e poi lì ci deve essere il ritorno dell'istituzione che vede dell'istituzione che osserva dell'istituzione che riesce a percepire che dall'altra parte ci sono comunque degli utenti che alla fine per quanto magari la piattaforma possa penalizzare arrivano magari arrivano più diluiti ma arrivano perché vanno contro l'algoritmo perché poi se un contenuto è di qualità a lungo termine le persone lo apprezzano al di là proprio di quello che decide all'inizio l'algoritmo e io sono testimone di questo Matteo perché molti dei miei contenuti partono svantaggiati sull'algoritmo e poi vengono apprezzati soprattutto a lungo termine ed è una cosa sono felice di questo un esempio è il video che ho fatto con i miei pupazzi animati sul primo triunvirato che ha raggiunto le 50.000 visualizzazioni e che dopo due settimane di programmazione non aveva neanche 23 visualizzazioni quindi certo è una cosa certamente ecco che mi sono accorto di questo quindi se un contenuto è di qualità poi le persone prima o poi se ne accorgono lo apprezzano e c'è certamente un feedback positivo in tutto questo guarda hai ragione è vero questo succede anche a me naturalmente ma credo un po' a tutti quelli che facciano storie nel senso che tanto ma guarda ti posso fare mille esempi guarda anch'io su tanti contenuti che erano partiti lenti e poi dopo invece sono arrivati a farvi i numeri solo che credo proprio che cioè chi si sta affermando oggi come creatore di contenuti di qualità che possono essere come i tuoi visivi oppure come quelli miei Roberto Trizio tanti altri amici che fanno i divulgatori insomma per dire anche se Nova Alexio che è il primo canale oggi che parla di geopolitica e storia sicuramente lui fa già dei contenuti di alta qualità però credo che dovrebbero essere un po' le istituzioni anche a cominciare a interessarsi delle nostre realtà Matteo non solo questo ma secondo me si dovrebbe creare una sinergia molto forte anche tra i creators e cioè cercare di ecco io ad esempio nel mio piccolo sulla mia pagina di Fibro Prof cerco di sponsorizzare molto di condividere molto materiale anche degli altri per far conoscere alle persone quello che fanno anche le altre persone l'ho fatto sì solo che hai ragione solo che chi lo fa come questa è una cosa no è una cosa importante Matteo lo sai perché ti dico questo perché noi ci rendiamo veramente conto del lavoro che c'è dietro della difficoltà che c'è a fare questi contenuti e io mi metto nei tuoi panni e so quanto è difficile fare questo tipo di contenuti per questo che io nel mio spazio non ho alcuna difficoltà a dire c'è Matteo Vanilla Magazine c'è Matteo con il suo lunale personale che fa cose bellissime vi consiglio di seguirlo come qualche altro youtuber purtroppo però non tutti hanno questa ci si vede più come competitor e secondo me è sbagliata questa concezione no guarda ti dico non per tutti e non da tutti secondo me chi ha avuto un buon ha avuto un buon sì chiamiamolo successo non la vede più questa cosa per dirti io Roberto ma anche io Simone di Nova Alex abbiamo fatto tanti video insieme questa cosa qui la vedo molto di più a livello di canali che ancora devono trovare un'identità mettiamola così a livello di creator che già hanno una bella identità che hanno già una bella realtà non la vedo un problema perché tanto sei già fra virgoletta affermato quello che secondo me invece sarebbe importante è proprio il fatto che l'istituzione riesca a come dire finanziare questo tipo di attività perché perché ti consente in questo modo di non essere più dipendente dall'editore grande che hai dietro che in realtà è youtube facebook eccetera perché se io faccio un contenuto e sono sempre obbligato a cercare di fare dei contenuti il più ammiccante possibile ti dico è un problema per dirti adesso io non lo faccio però ma neanche di nessuno di quelli che ho citato e figurati tu però per dire ci sono tanti canali di pseudostoria in Italia che fanno sostanzialmente dei video di intrisi di falsità di falsi storici eccetera proprio apposta perché per tirare ma io un po' li capisco perché cioè tu fai il video che ne so il mistero di Nerone che ammazza tutti quanti e quanti ne ha ammazzati è chiaro che se io ti dico guarda che Nerone non è così vero anzi è per nulla vero che era un imperatore più terribile degli altri non tira quanto che ne so Nerone che ammazza Poppea ecco cioè è tutto secondo me è un po' il ragionamento di dire l'istituzione dovrebbe venirci incontro e capire un po' qual è lo scenario oggi di editoria online di creatori di contenuti online e ecco sostenerci a mio parere questo è un po' nel tuo caso ad esempio le tue ricostruzioni visuali penso che potrebbero trovare una buon secondo me dovrebbero essere sostenuti dalle istituzioni è un po' questo ecco che che intendevo dire hai un'altra domanda ovvero oltre alla Grecia se puoi fare qualche ricostruzione sull'antico Egitto quindi abbiamo richieste e beh assolutamente già c'è qualcosa ho ricostruito la Piana di Ghisa e tra le altre cose è un lavoro che verrà utilizzato per un documentario su Franz De Laissez-vous faire è il programma e si vedrà proprio una sequenza di un minuto o due minuti della ricostruzione 3D che ho fatto della Piana di Ghisa che ho realizzato in prima battuta per i miei studenti e poi poi in seconda battuta ovviamente per gli appassionati di storia storia 3D molte persone me la chiedono sempre perché ho cercato di ricostruire la Piana di Ghisa conservando e facendo attenzione alle peculiarità della Piana di Ghisa ad esempio una di queste è la punta della piramide che aveva praticamente questo rivestimento in oro ed era visibile anche da molto lontano perché brillava questo rivestimento proprio della piramide di Cheope tra le altre cose questa è una ricostruzione molto discussa perché come dicevi tu giustamente su internet molti fanno anche un po' di storia diciamo che non segue le fonti ufficiali e soprattutto questo è un sito archeologico molto bersagliato da questa diciamo controtendenza io ti posso dire una cosa Matteo da costruttore 3D ti posso dire che per quanto mi riguarda se conta qualcosa il mio parere non lo so però ti posso dire che le piramidi sono state fatte dai faraoni ecco ma non solo allora c'è una cosa che ci dice questo non c'è bisogno di andare troppo lontano se si conoscesse bene la topografia del territorio molte persone magari che hanno dei dubbi su questo potrebbero capire questo sapendo dell'esistenza di un quartiere di operai delle piramidi cioè era sia un quartiere sia un cimitero di queste persone che parteciparono alla costruzione delle piramidi e io ho ricostruito questo questo sito archeologico poi io per carità sono sempre aperto a tutte le strade a tutte le soluzioni però è ovvio che certamente ho dovuto dare un'impronta che doveva seguire proprio la storia ufficiale in prima battuta perché sono un insegnante e al di là di questo le mie opinioni personali devono essere scorporate da quello che viene fatto in sede di divulgazione quindi la storia ufficiale è una cosa che deve essere rispettata anche perché io non sono una persona che è nella posizione di dover riscrivere la storia quindi io ho ricostruito la piana di chisa seguendo le fonti ufficiali questo potrei metterci qualche alieno che veniva giù con l'astronave o qualche astronave aliena diciamo ecco che mi hai mi hai anticipato ecco quello ma sai guarda ti dico non li fai mai contenti io chi è che non mi ricordo mi ha fatto una critica uno un altro giorno mi ha fatto proprio sorridere ma su una roba assurda non mi ricordo però poi dopo vedi cioè ogni persona magari si si fa un'idea di un mistero cioè qualcosa che per lui è troppo grande per essere spiegato tipo le piramidi che effettivamente sono state un'opera enorme colossale però non teniamo conto che all'epoca l'Egitto era pratica quasi l'unica potenza naturalmente non l'unica però erano veramente molto ricchi ecco uscivano a concentrare su di sé grandi ricchezze del mondo conosciuto del mondo del mondo civilizzato è una parola ottocentesca no del mondo che si stava sviluppando ecco quindi le piramidi sono state uno sforzo enorme che sono riusciti a fare con successo io la vedo la vedo solo così poi che adesso si sia persa la memoria del come a questo è poco indicativo ecco però è solo per questo per memoria certo ma la stessa miscela del calcestruzzo del circo massimo delle costruzioni romane questa non la sappiamo cioè gli ingredienti non li sappiamo noi le miscele esatte quindi figuriamoci un qualcosa che è stato ricostruito duemila anni prima quindi sono perfettamente d'accordo con te assolutamente quindi credo che lì ci sia un concentrato di opere d'arte di opere architettoniche fra le più belle in assoluto della storia antica nel mio specifico personalmente ritengo che l'uomo abbia raggiunto in epoca antica e non solo il suo apice in due circostanze e lo dico da costruttore 3D il circo massimo certamente è stata un'opera incredibile che ancora oggi mi chiedo come abbiano potuto fare a costruire uno stadio di 250.000 spettatori ma uno stadio un ambiente polifunzionale un ambiente incredibile e un'altra opera che secondo me veramente rasenta la perfezione divina è l'Artemision di Efeso che io ho ricostruito in 3D ed è un qualcosa di straordinario ecco queste due opere sono fra le cose più belle che l'uomo abbia mai potuto costruire in generale non ci dimentichiamo mai l'armonia del Partenone assolutamente nelle sue imperfezioni poi perché molti non lo sanno ma in realtà le colonne del Partenone non hanno tutte la stessa misura se tu guardi la planimetria del Partenone dall'alto molte colonne non hanno lo stesso diametro proprio passando da settore a settore quindi la perfezione nella sua imperfezione è un qualcosa di incredibile è un qualcosa che è servita all'imperfezione anche per dare quell'illusione ottica di opera compatta bella e unica nel suo genere quindi la storia antica ci stupisce sempre e diciamo sempre ma come è possibile che abbiano potuto ricostruire queste opere così ingegnose così difficili da fare anche oggi certamente tante cose ci sfuggono però noi ecco dobbiamo cercare di non sottovalutare mai l'ingegno dell'uomo che si è sempre adattato in base ai mezzi che ha avuto a disposizione e un altro esempio sicuramente saranno stati i giardini pensili ecco l'altra l'altra meraviglia che poi lì Matteo ha visto ci sono le correnti di pensiero che dicono che i giardini pensili in realtà fossero di Ninive e non erano di Babilonia quindi io alla fine sono arrivato a una mia conclusione personale cioè che Ninive è stata distrutta dai babilonesi i babilonesi hanno visto la meraviglia dei giardini di Ninive e a loro volta hanno provato a replicare la bellezza dei giardini di Ninive ed è uscito fuori ecco è uscita fuori la creazione di Nabucodonosor con i giardini considerati la settima una delle meraviglie del mondo antico e questa è proprio ghisa dall'alto come vedete all'epoca non era un ambiente propriamente desertico c'era sicuramente molta più molto più verde più vegetazione poi noi siamo abituati a ricordarci principalmente le tre grandi piramidi però tutto intorno c'erano i sepolcri dei membri della famiglia reale quindi altre piramidi più piccole poi stranamente la piramide di Cheope in realtà è più piccola è più è più bassa però stando su un alto piano dà l'illusione ottica di essere più alta rispetto alla piramide di Cheope in realtà però la piramide di Cheope ovviamente è più alta però col fatto che sta in un punto un pochino più alto sembra un pochino più alta della piramide di Cheope e questa ricostruzione è stata molto apprezzata anche dai miei studenti che saluto e sono stato felice ecco di di poter ricostruire la Piana di Ghisa perché è una delle cose che gli studenti chiedono di più il Colosseo la Piana di Ghisa sì dai affascino la Piana di Ghisa che credo che non non abbia nessun'altra nessun altro luogo ecco io l'ho vista dal vivo dal vivo è un po' diverso però devo dire non è cioè è veramente bellissima è qualcosa di qualcosa che ti lascia senza fiato anche perché cioè ricordiamo che noi siamo molto più vicini ai Romani di quanto i Romani fossero vicini agli Egizi cioè cioè ha veramente un'antichità quel luogo che noi non insomma sì Matteo no perché noi siamo abituati a prendere il mondo antico e metterlo tutto dentro un unico pacco in realtà non è così perché poi i Romani all'epoca facevano i turisti e andavano a vedere le antichità dell'antico Egitto come facciamo i turisti guarda anche l'Atene fra l'altro che abbiamo tutte le descrizioni di Pausania famosissime su tutti i dipinti eh ma qua mi apri un mondo Matteo mi apri un mondo infinito cioè tu mi nomini Pausania io va potrei restare fino a domani mattina proprio perché Pausania è stato io vi devo molto a Pausania perché tramite Andreas ho approfondito Pausania e la mia ricostruzione per te di Sparta tra le altre cose signori io conosco questo ragazzo Matteo bravissimo che ha 40 anni che è dell'82 da un video che ha fatto su Sparta e io quando ho visto questo video su Sparta sono rimasto veramente senza parole perché lui fece proprio un reportage su Sparta bellissimo ha detto guarda se dovesse capitare l'occasione di conoscerlo sarò felice perché questo video su Sparta mi era piaciuto tantissimo e Pausania mi ha aperto un mondo perché Pausania con il suo viaggio nella madrepatria nella Laconia in generale descrive Sparta in maniera così bella così appassionata e lui era come dicevi tu un turista altro non era che un turista affascinato curiosito che andava e chiedeva anche qualcosa ad esempio ai custodi so che lui chiese ad esempio qualcosa ai custodi del tempio di Zeus ad Olimpia cioè come come lo conservate mi sembra che si fece dire praticamente la procedura perché ovviamente quella era una statua crisi olefantina in oro e in avorio quindi andava pulita in un certo modo per la conservazione quindi lui si faceva spiegare queste cose era una sorta di viaggiatore dell'antichità che avrebbe potuto fare una trasmissione ecco di divulgazione sui viaggi alla ricerca della scoperta è vero e grazie a Pausania fra l'altro lo dico per chi ci segue che non ha studiato storia greca conosciamo tantissime cose che non ci sono più e riusciamo ad esempio a identificare sculture come appartenenti a un a un artista o a un altro proprio grazie alle sue descrizioni quindi la descrizione che fa lui è fondamentale perché noi oggi riusciamo a conoscere chi ha fatto cosa in tanti casi anche grazie a Pausania e conosciamo cosa importantissima l'ho detto nel video di ieri sulla tomba della fustigazione conosciamo anche i dipinti greci che oggi dei quali oggi non abbiamo quasi quasi nessuna testimonianza a parte la tomba del tuffatore Apestum e a parte le tombe ellenistiche del tumulo di Vergina in Macedonia hai un'ultima domanda che è ricostruzione di Gobekli Tepe struttura di quasi 12 mila anni fra l'altro ho fatto un video da poco sui terremoti della Turchia perché Gobekli Tepe è tra i siti che è stato interessato purtroppo dai sismi ti chiedono di fare una ricostruzione di Gobekli Tepe promesso prima o poi la farò conosco il sito dovevo approfondire nello specifico per quanto riguarda la Turchia all'Asia Minore ho realizzato qualcosa di non troppo lontano Cataluyuk però Cataluyuk l'ho ricostruita e sono stato felicissimo di ricostruirla perché poi essendo considerata una delle primissime città della storia aveva questa peculiarità legata al fatto che gli abitanti avevano creato questa sorta di perimetro protettivo di città che gli abitanti riuscivano a proteggersi perché in sostanza camminavano sopra i tetti quindi tutto intorno la città era chiusa e gli abitanti in realtà riuscivano a proteggersi perché la vita la vita sociale si svolgeva all'interno di questo perimetro o sopra proprio la parte superiore delle case quel sito archeologico nello specifico ti prometto che lo ricostruirò perché è un sito molto affascinante come del resto anche tanti altri siti che ci possono dare tante informazioni Balbeck ad esempio in Libano quello pure è un sito archeologico che mi ha sempre incuriosito e lo accosto molto per sensazioni a questo sito archeologico che l'ascoltatore quindi che l'utente che lo spettatore ci ha menzionato sicuramente lo ricostruirò non so quando però lo ricostruirò promesso bene grazie mille Marco sei stato gentilissimo a partecipare alla live aspetta che ci tolgo questo schermo ti faccio salutare bene ecco fa più da vicino grazie mille per aver partecipato mi ha fatto piacere parlare del tuo lavoro secondo me è veramente interessante niente io saluto tutti quanti domenica sera vi auguro una buona domenica sera e un ottimo lunedì ciao Marco ci vediamo alla prossima ciao a tutti gli spettatori e gli ammiratori di Vanilla Magazine buonasera buonasera a tutti ciao a tutti サブタ